Sarà effettuata la copia forense dei due cellulari sequestrati all'ex presidente della Fira, Giancarlo Masciarelli, uno degli indagati per concorso in bancarotta fraudolenta nell'inchiesta sul fallimento della società OMA. L'indagine sugli strumenti informatici sarebbe dovuta partire già a febbraio, dopo le perquisizioni, ma l'emergenza Covid aveva bloccato il procedimento e ora il consulente tecnico ha 60 giorni per consegnare la perizia alla procura, che mira così ad accertare se esistano ulteriori elementi che determinino il rapporto tra Masciarelli e il proprietario dell'azienda metalmeccanica, Mauro Angelucci. Era stato quest'ultimo a suo tempo a presentarsi spontaneamente in procura per autoaccusarsi della bancarotta e di falsi in bilancio. Masciarelli a suo dire avrebbe svolto per la OMA solamente un lavoro di consulenza dei conti. Per l'azienda era stato prima presentato un concordato preventivo, ma il titolare non aveva mai portato in tribunale il piano concordatorio per poi dichiarare inaspettatamente il fallimento. Il crack della OMA, che in Abruzzo ha due stabilimenti a Tocco e Castiglione da Casauria e un centro manutenzione a Bussi, ha fatto così perdere il lavoro a 330 persone.